Amici del Grillo Parlante, ci troviamo in via Lago di Misurina, angolo via Leionio, da una posizione davvero insolita. Infatti ho voluto correre un rischio ma la passione giornalistica mi ha indotto, praticamente la strada è franata, c'è stato un precipizio di quasi due metri, uno sprofondamento di quasi due metri e ho dovuto saltare la recinzione posta dal comune di Taranto per farvi vedere, proprio per vivere in prima persona, lo scempio. Mi domando come sia possibile che al giorno d'oggi una strada normale all'improvviso frani. Questo dovrebbe essere credo calcestruzzo, un calcestruzzo che vedete sta franando, è ormai ridotto, è diventato fragilissimo e ho voluto entrare proprio all'interno, è diventata una grotta, una caverna. Per farvi vedere, prego il nostro operatore di farci vedere fino in fondo a che punto siamo arrivati. Guardate qui, si sgretola tutto, è anche rischioso muoversi ma cercheremo di trovare un punto fermo. Eccoci qui, ce l'abbiamo fatta. Guardate cosa c'è all'interno, prego proprio di voler far vedere questo antro che denota lo sprofondamento che vi è stato. Allora voi immaginate una famiglia delle persone che tranquillamente fanno una passeggiata e trovano questo marciapiede che ormai è ridotto praticamente ad un foglio di carta velina. bene, questo marciapiede ridotto a un foglio di carta velina sprofonda e apre un baratro, apre una voragine. È davvero una situazione a dir poco grottesca. Potrebbe far sorridere, certamente lo farà la mia immagine qui in questo posto, però ripeto lo facciamo anche per sdrammatizzare, però a dirla tutta c'è poco da sdrammatizzare. Qui la situazione è peggiore di quanto si possa immaginare e innanzitutto pone l'obbligo ad una riflessione. I controlli evidentemente sulla staticità delle nostre strade, dei nostri marciapiedi non esistono perché se un marciapiede dall'oggi al domani frana e lascia due, tre metri di buco, di baratro, beh a questo punto ditemi voi di grazia dove è la sicurezza. E quindi dicevo ancora, chissà per quanto altro tempo qui la strada rimarrà così transennata, perché si tratta poi di fare effettivamente uno studio preciso, dettagliato, per comprendere le ragioni per le quali appunto c'è stato questo sprofondamento. E ripeto, una situazione davvero patologica, davvero grottesca, che ripeto la dice lunga su uno stato davvero incredibile del manto stradale, dei marciapiedi. Pensate, a costo anche di ripetermi, guardate, ecco, vedendo dall'interno e quindi non dall'esterno, pensate, le persone camminavano in effetti quasi sospesse per aria, praticamente su un foglio di carta velina. Ecco, immaginate voi, ripeto, i rischi che si sono corsi in questo stato, in queste condizioni. Vedete? Non ci voleva nulla, appunto, non ci vuole nulla, affinché si sgretoli tutto e patatrac si vada a finire sempre più giù. E' insomma un quadro penoso e pietoso. Sarebbe opportuno che l'assessorato e i lavori pubblici intervenisse quanto prima, ponendo fine a questa situazione, ma vorremmo che questo fosse l'inizio, fosse l'input, visto che ringraziando il cielo non è successo niente. Dicevo, l'input, l'inizio a tutta una serie di controlli, perché di queste situazioni precarie ce ne sono a Iosa, ce ne sono a Bizzeffe. Oltretutto stiamo parlando di un'area trafficatissima, appunto, Viale Ionio, che da Lama a San Vito porta poi a Viale Magna Grecia e così via. Insomma, un quadro davvero strano, un quadro davvero incredibile. Ebbè, cosa dire, non c'è limite al peggio? E intanto io, ecco qui, piano piano cerco, cercherò di riguadagnare, sperando di non franare, eccoci qui, siamo salvi, siamo vivi. Beh, c'è una celebre opera di Moccia, no? Poi tradotta in un film, tre metri sopra il cielo è la forza dell'amore, beh, qui a Taranto siamo tre metri sotto la terra.